Pomi d'ottone e i manici di scopa. A più tardi. Tazza da caffè sporca, carta stravagante, semplici sassolini. Vuoi capirne di più? Le arti della divinazione, la nuova collezione con tutti gli strumenti che ti aiutano a interpretare il futuro. Numero uno schede e primerone a soli 1,95 euro del Prado. È il campione mondiale rally, è la tua Focus. Oggi Focus Tye Wagon 1.6 TDCi 90 cavalli con climatizzatore e radio CD. A 14.650 euro, anche sabato e domenica. Missione no problem. In città c'erano ancora problemi. Io voglio parlare con tutti. No problem. Poi anche un telefonino, ma di quelli belli però. E ai ragazzi non piacciono i problemi. Vodafone no problem. Con soli 39 euro al mese, mille minuti di chiamate verso tutti e un Samsung Z720 incluso. Per avere no problem, passo Vodafone. Oh, è preparata? Vodafone. Life is now. Non è indispensabile essere grandi per avere una grande idea. Ma per farla diventare realtà, può farti comodo un piccolo aiuto. Le cose belle finiscono troppo presto, come i vantaggi degli incentivi. Gli incentivi Chevrolet, invece, durano molto di più. Su Calus e Matiz hai vantaggi immediati fino a 3500 euro. E la possibilità di continuare a risparmiare il 40% sul carburante, grazie all'impianto GPL gratuito. Inoltre, la prima rata è dopo sei mesi. Vieni a scoprire gli unici incentivi che durano quanto la tua altro. Chevrolet. Mi, non è possibile! Poi ora deve venire di una crisi allergica? Sono allergico alle funivie! Chiamano l'ergologo! Guarda, guarda! Ho perduto tutti i capelli! Sì, Caterina! C'è qui Giovanni che ha una crisi di funivite! Che dobbiamo fare? Dice che dobbiamo fare delle sabbiature! Che funivie! Lo stiamo perdendo! Un pediluvio! Puoi far presto! Non ti preoccupare! Parlo gratis! Noi due pack, a soli 10 euro, due sim che parlano gratis tra loro. Fatto, è ora! Dobbiamo essiccarlo! Per sempre, da Wind. Carrefour midabile! Da Carrefour fino a sabato, lettore DVX con videoregistratore Samsung a soli 99 euro. Lettore MP3 foto-video da 2 GB con radio a soli 69 euro. Carrefour è di parola! Con Citroen le offerte sono sempre esplosive, perché solo con Citroen hai fino a 8.000 euro di eco-incentivi sulla gamma dei veicoli commerciali. Cosa aspetti? Berlingo Van da 5.950 euro. Nuovo jumper da 13.600 euro. E non farti scappare l'eccezionale comfort di guida e di carico del nuovo Jumpy, con sospensione posteriore pneumatica per un'eccezionale tenuta di strada e filtro antiparticolato. Tuo da soli 11.500 euro e paghi da settembre 2007 senza anticipo, solo a febbraio. Porte aperte domenica 18. Qual è la vantaggiosa offerta infostrada per telefonare da casa? Happy No Limit! Te tu puoi parlare con 19,95 euro al mese senza limiti in tutta Italia per sempre e senza pagare il canone Telecom! E l'è un'offerta di... Ma infostrada! E non gridare così, che tanto non ti sente, no? Happy No Limit! Ti liberi dal canone Telecom e chiami senza limiti Italia, Europa e Nord America. Quando cresci, mai... Chiama al 159 o vai su infostrada.it Io so che dal momento in cui viene regalato qualcosa, chi regala non è più padrone di questo oggetto. Come ho fatto io in 15 mesi a giocarmi una mini manovra finanziaria. Ho provato a protestare, però sono stato accolto in malo modo. Il niente, l'inconcudente, sì c'è ragione, non vediamo poi, non facciamo niente. Ma se è come dice lui, per quale motivo facevano le firme false in banca? Fatti sentire, mi manda Rai 3 ogni venerdì alle 21 su Rai 3. Nuovo appuntamento per Speciale Super Quark, dedicato al più famoso e al più celebrato dei condottieri, Napoleone Bonaparte. Seguiremo naturalmente Napoleone, cercando di capire meglio il suo rapporto con i soldati, quello che essi hanno rappresentato non soltanto nella sua vita militare, ma anche nella sua ascesa politica. Napoleone, seguendo la grande armata. Speciale Super Quark, sabato alle 21.30 Rai 3. Io credo che la mafia oggi sia la mafia San Frontier, sono colletti bianchi, tutto il rituale di una volta è la mafia, il santino bruciato, la puncicatura del sangue, non ce n'è più bisogno, basta conoscere la password. Questa città è piena di contraddizioni, l'appello che noi continuiamo a fare è quello, ribellate, venite fuori. Sì, sarebbe molto bello avere questa Sicilia senza mafia e una Palermo più libera. I Boss, la mafia quotidiana, quella con le targhe d'ottone in portineria. Primo piano, tra poco, dopo il telegiornale. Buonasera dal Tg3, mancano 48 ore alla manifestazione di Vicenza e si riaccendono le polemiche interne alla maggioranza. Il Presidente della Camera Bertinotti ha infatti affermato oggi che gli impegni presi da un altro governo non sono irrevocabili, ma ho troppo rispetto per la mia carica istituzionale per andare a Vicenza. Le parole del Presidente della Camera Bertinotti riaccendono la polemica sulla manifestazione di sabato, dopo l'allarme lanciato per possibili disordini. segnalato. Grazie a tutti.